Buongiorno a tutti. Ora, siccome nelle volte scorse abbiamo visto una parte di teoria relativa alla generazione dell'immagine e ai vari, diciamo per esempio, al concetto di ingrandimento e alla formazione dell'immagine, oggi volevo innanzitutto effettuare un ripasso complessivo dell'argomento, in modo tale da vedere nel complesso tutti questi concetti. Allora, ho preparato una specie di schema riassuntivo che dovrebbe contenere sostanzialmente praticamente tutto quello che abbiamo visto finora. richiede pertanto di avere visto le precedenti registrazioni perché altrimenti difficilmente si riesce a capire. Ora, l'idea di base è questa. Noi abbiamo una lente, quindi adesso noi ci occuperemo di rivedere meglio la formazione delle immagini, come si formano le immagini, ok? E per fare questo rivedremo la teoria di Abbe che abbiamo visto l'ultima volta, molto brevemente. Se ricordate, ecco qua, vado a recuperare il foglio, ecco questo. Vedete? Vedete che qui c'era sostanzialmente il, diciamo, il reticolo, stilipo sinusoidale, poi c'era la lente che faceva praticamente, svolgeva il ruolo di, generava l'FFT, poi qui c'era un eventuale filtro e poi l'FFT la meno uno. Questi raggi erano tutti paralleli e questi raggi erano paralleli. Il fatto che siano paralleli significa che se uno mette l'occhio qui, li vede, perché l'occhio umano naturalmente è progettato per vedere dei raggi paralleli che arrivano da infinito o eventualmente non del tutto paralleli, però di certo non fortemente convergenti. Infatti non per niente i telescopi che generano, per generare un fascio di raggi paralleli, hanno bisogno di un'ulteriore lente che è l'oculare sostanzialmente, ok? E questi erano eventuali ostacoli che venivano messi sul piano di furie per ottenere, per, diciamo, per generare dei filtri passa basso o passa alto o quant'altro. Ora, rivedremo dunque questo ragionamento, però, questa volta, vedete, qui noi abbiamo la nostra lente, ok? Qui abbiamo il piano di furie, vedete? Questo è il piano di furie e questo è il piano di messa a fuoco. Poi, qui abbiamo dei raggi che arrivano, per così dire, da infinito, quindi sono tutti paralleli. Questa è luce monocromatica coerente. Questa, ovviamente, è un caso molto particolare. Se la luce non fosse monocromatica, si potrebbe vedere come una somma di infinite o quasi infinite onde monocromatiche. E per quanto riguarda la coerenza, vi ricordo che coerenza significa che i fotoni che, diciamo, giungono hanno tutti la stessa fase, ok? Si propagano tutti con la stessa fase. Anche questo è piuttosto difficile da ottenere, perché la fase di un pacchetto di fotoni cambia ogni 10 alla meno 8 secondi, statisticamente. Quindi cambia così in fretta che la fase in generale è estremamente mischiata. Infatti, la luce che noi abbiamo intorno a noi è assolutamente non coerente, però c'è un modo per generare della luce monocromatica coerente, che è il laser, ok? Comunque, poi, qui abbiamo la nostra immagine, e cioè la realtà, sostanzialmente, no? Nella lezione precedente qui c'era un omino disegnato. E vi avevo detto che l'omino disegnato o una diapositiva, quello che volete, può che sia trasparente, ovviamente, perché deve essere retroilluminato dalla luce, può essere visto come una sommatoria, per Fourier, può essere visto come una sommatoria di seni con delle opportune ampiezze e delle opportune fasi, ok? E di opportune frequenze. Questo è il concetto di trasformata di Fourier, quindi niente di particolarmente innovativo da questo punto di vista. E quindi qui noi ne prendiamo una sola, una specifica frequenza. Per esempio, 160 linee al millimetro, adesso poi vedremo perché. Ora, questo significa che, a causa dei fenomeni di interferenza, che la volta scorsa avevamo visto brevemente, ma su cui ovviamente non stiamo a indagare eccessivamente, questi raggi, diciamo che il raggio innanzitutto procede dritto, e poi in più se ne genera uno inclinato, uno a destra e uno a sinistra, ok? Vi ricordo che qui se ne generano solo due, cioè uno a destra e uno a sinistra, perché questo reticolo è di tipo sinusoidale, ok? Quindi significa che un po' è opaco, un po' è meno opaco, sempre meno opaco finché diventa chiaro, e poi ridiventa un po' opaco e così via, con un profilo sinusoidale. Mentre invece normalmente sono a onda quadra, quindi sì, no, sì, no, sì, no, ok? Allora, quello con sì, no, sì, no, sì, no, è il classico reticolo di diffrazione, e provoca l'ordine 0, che è questo, poi l'ordine 1, ordine 2, eccetera, eccetera. Quindi c'è un puntino centrale e poi n puntini, sai, i due lati, in teoria infiniti. È il discorso dell'arcobaleno che facevamo la volta scorsa. Bene, qui in questo caso, per esempio, in questo punto abbiamo questo colore arancione, che indica che c'è un raggio che va dritto, uno che indica il primo ordine da una parte, l'altro che indica il primo ordine dall'altra parte, ok? Naturalmente qui siamo in due dimensioni, ok? Quindi in realtà questa è un'onda sinusoidale messa per esempio per così, ok? Però nessuno vieta di averla inclinata in un'altra maniera, così come nessuno vieta di avere un'onda sinusoidale bidimensionale, ok? Immaginate per esempio una goccia di latte che cade e genera un'onda che ha una sua frequenza, però bidimensionale e non solo monodimensionale. Quindi prendiamo tre punti, per esempio quello arancione, quello azzurro e quello rosso, ok? Ciascuno di questi punti, vedete che ha una retta che va dritta, perché è dritta perché qui stiamo parlando di luce monocromatica coerente rigorosamente proveniente da infinito, quindi va dritta per forza, continua, e poi invece viene deviata di un angolo, alfa qua, che dipende dal reticolo di diffrazione sinusoidale. Quindi se è più fitto, l'angolo sarà più ampio, se è meno fitto, l'angolo sarà meno ampio, ok? Qui stiamo vedendo quello che avevamo già visto la volta scorsa, e cioè come si forma un'immagine, perché come si forma un'immagine è indispensabile per capire bene a cosa ci serve Fourier e come funziona nella realtà da un punto di vista pratico, ok? Ora, che cosa succede quindi? Abbiamo per esempio questi tre raggi, ok? Ora, questi tre raggi noi li facciamo incidere su una lente, quindi qui è lo stesso discorso di prima, della volta scorsa. Allora, finiscono sulla lente, uno parallelo e uno inclinato. Ora, che cosa succede? Succede che questi raggi vanno a formare nel fuoco della lente, vedete questa è una lente con una certa lunghezza focale, e questo è il suo fuoco, ok? Quindi questa è la sua lunghezza focale. Quindi nel suo fuoco, quindi alla sua lunghezza focale, formano tre puntini, ok? Uno che è l'ordine 0, vedete? Uno che è l'ordine 1 di destra, e l'altro che è l'ordine 1 di sinistra, ok? Vi ripeto, se questa fosse un reticolo non sinusoidale, qui non avremmo solo tre puntini, ma ne avremmo infiniti, ovviamente il primo più luminoso, il secondo meno, e via via, sempre meno luminosi, ok? Dopodiché però, se io procedo oltre, cioè faccio continuare questi raggi, cosa succede? Succede che questi raggi vanno a fuoco, perché io, vedete qui come ho fatto a tracciarli, allora, io ho preso, e la continuazione di questo raggio parallelo, l'ho fatto andare dritto, ok? Poi qui questo l'ho fatto piegare, ok? Questo raggio se è parallelo, siccome arriva da infinito, se è parallelo deve finire nel fuoco della lente, per forza, per definizione, ok? Quindi, va avanti, va avanti, va avanti, finché non trova il punto, un certo punto, ok? Che è il suo fuoco. Dopodiché, se da questo stesso punto parte un altro raggio, inclinato a piacere, questo in ogni caso dovrà finire nello stesso punto qua, ammesso ovviamente che la lente sia perfetta, ok? E quindi passerà di qua, questo dipende da quest'angolo, passerà di qua, e poi verrà piegato dalla lente e finirà qua. Stessa cosa per quello blu, vedete? Questo va dritto, questo piega per così, e poi viene ripiegato e finisce di nuovo lì. E stessa cosa per quello rosso, questo qui va dritto, questo invece viene, va su, per di qua, e poi viene ripiegato, e i due rossi si incontrano qui. Ok? Se ci fate caso, vedete che quello azzurro è il centro della lente, poi quello rosso è sopra, e quindi qui verrà sotto, ok? Inoltre, quello arancione è sotto, e quindi qui verrà sopra. Poi qui, per non complicare troppo il disegno, ho disegnato soltanto quello che parte sulla sinistra, e non quello che parte sulla destra, ma ce ne sarebbe un altro che fa lo stesso identico percorso, semplicemente inclinato dall'altra parte. Ebbene, questi raggi aggiuntivi, che appunto qui non ho disegnato, andranno a convergere, ho disegnato solo l'ultimo pezzettino, andranno di nuovo a convergere qui, vedete? Vedete, ho disegnato solo l'ultimo pezzo, qui, ok? E anche qui in rosso, ok? Ora, che cosa vogliamo vedere a questo punto? Vogliamo vedere un caso effettivo, ok? Quindi noi abbiamo un reticolo sinusoidale da 160 linee al millimetro, ok? Poi, diciamo che in questo modo noi abbiamo visto anche come si fanno a tracciare questi raggi, perché se questo è parallelo deve andare sempre dritto. Una volta arrivato al centro della lente, lasciamo perdere che la lente non è perfettamente sottile, naturalmente, comunque facciamo finta di riferirci a questo piano che sia il piano effettivo della lente, il piano nodale, dopodiché noi lo facciamo piegare, se arriva parallelo deve passare dal fuoco. E se questo passa da lì, in qualsiasi modo lui arriva per così e poi qui, da qui a qui, deve andarci per forza, sempre appunto che, ammesso che la lente sia in ordine, ok? E così anche per gli altri. Ora, questo significa sostanzialmente che questo, qui noi non siamo a infinito, perché questi punti che generano questi raggi, che divergono, non sono infiniti, sono a una certa distanza dalla lente. Quindi, questo significa che andranno a fuoco, ma non andranno a fuoco nel fuoco della lente, dall'altra parte, ma andranno a fuoco un po' più in là. Se vi ricordate, quando io metto a fuoco un oggetto che è più vicino di infinito, e questo è un oggetto più vicino di infinito, notate che questo disegno è proprio fatto in scala, e se io metto a fuoco un oggetto che è più vicino di infinito, il piano di messa a fuoco andrà più in là, ok? Benissimo. Ora, però, la cosa interessante che abbiamo visto la volta scorsa è che nella zona, in questa zona, cioè ad una distanza pari alla distanza focale della lente, qui si forma la trasformata di furia dell'immagine. In questo caso, la trasformata di furia è molto facile perché questa è luce monocromatica, coerente, rettilinea, e in più questa è un reticolo sinusoidale. Però, diciamo che, estendendo al massimo il caso, questa è luce bianca, quindi è una mescola di tante luci monocromatiche, non è coerente, ma ogni 10 alla meno 8, per 10 alla meno 8 secondi è coerente. Se questo non è sinusoidale, non importa, perché l'immagine vera in realtà è una sommatoria di un grandissimo numero di sinusoidi, ok? Quindi siamo in grado di generalizzarlo. Ok, allora, vedete, quindi qui ho, nel mio, nel fuoco della lente, ho la mia trasformata di furiae. E come vi dicevo la volta scorsa, se io voglio applicare un filtro passabasso, mi è sufficiente bloccare il passaggio di questo e di questo, e questa frequenza non passerà, perché passa solo la frequenza zero, che è la continua. Ok? Dopodiché, qui a fuoco si riforma l'immagine. Del resto, noi siamo abituati a vedere dentro una macchina fotografica, qui, vediamo, non vediamo la trasformata di furiae, vediamo l'immagine. La trasformata di furiae galleggia nell'aria davanti al sensore, ok? E quindi non la vediamo. Per vederla dovremmo mettere un fogliettino di carta lì, ma di nuovo la vedremo molto, molto male, perché la luce normalmente non è né monocromatica, né coerente, né rettilinea, e tantomeno questa è una sola sinusoide. Quindi qui vedremo un grandissimo miscuglio di punti che diventa incomprensibile. Ok? Ora, quindi, dicevo prima che questo è un caso costruito a tavolino, ma fatto in scala, ok? Io qui ho voluto fare, allora, diciamo che qui c'è il concetto di, diciamo di, Fourier, sostanzialmente, quindi la teoria di Abbe, che è appunto il discorso del reticolo da questa parte, che si riproduce dall'altra parte. Notate che, quello che avevamo visto la volta scorsa, qui aveva un'altra lente, un po' più in là, uguale a questa, che produceva dei raggi tutti paralleli. Ora, questi raggi tutti paralleli vanno bene, come dicevo prima, per l'occhio umano, però se io qua ci metto uno schermo dove voglio proiettare l'immagine, deve essere qui e non più in là, e non è necessario che ci sia l'altra lente, ok? Quindi, vedete, qui non c'è la seconda lente. Bene, quindi, questa è la prima cosa. Seconda cosa, abbiamo visto come si tracciano i raggi, ok? Di quanto devono piegare, qui dipende sostanzialmente dall'indice di rifrazione della lente, ma in questo caso, ripeto, non ci interessa, perché il primo va dritto, se va dritto, deve passare nel fuoco, e poi procede. notate che qui stiamo usando un sistema che non è ondulatorio, è soltanto il cosiddetto ray tracing, ok? Mentre invece il secondo, qui ci va per forza, perché questo angolo è determinato dal reticolo, e poi da qui a qui ci va per forza, perché deve andare a finire nello stesso punto dove finisce questo, ok? Quindi, abbiamo visto quindi il discorso di Fourier, abbiamo visto come fare a tracciare i raggi, e poi, se vi ricordate, abbiamo passato un po' di tempo a parlare di ingrandimento, e questo è proprio un caso in cui io ho, per esempio, deciso che l'ingrandimento di questo sistema, M, doveva essere 0,5, cioè un rapporto di riproduzione di 1 a 2, ok? 1 a 2 significa che, se un oggetto è di un centimetro sul piano focale, qui c'è il sensore, la pellicola oppure il sensore digitale, se qui c'è un centimetro, vedete, da qui a qui è un centimetro, per davvero, misurandolo con un righello, da qui a qui ce ne sono due, ok? Perché l'ingrandimento è 1 a 2. Ora, io ho deciso questo 1 a 2 perché mi interessava così, bene, allora, una volta deciso questo 1 a 2, io devo andare a calcolare questo che è U, e questo che è V. Allora, se io, se il mio M vale 0,5, U varrà F, che è 50 mm, perché ho deciso di utilizzare una lente da 50 mm di lunghezza focale, per 1 più 1 diviso M. Risultato, 1 più 1 diviso 0,5, questo fa 2, e quindi 3, 150 mm, quindi vedete che da qui a qui, sono 150 mm. e poi qui abbiamo V, V è F per 1 più M, 50 per 1 più 0,5, fa 75 mm, ok? Quindi da qui a qui sono 75 mm, la lente ha una lunghezza focale di 50 mm, quindi da qui a qui sono 50 mm, e tutto in scala, ok? Quindi questo significa che, se io qui ho messo un reticolo, in cui le linee sono al passo di 160 linee al millimetro, cioè 80 cicli al millimetro, qua mi ritroverò 320 linee al millimetro, perché il rapporto di ingrandimento è 2, quindi qui erano 160, qui sono 320, ok? E vi ricordo anche che qui, qui c'è l'ordine 0, e qui c'è l'ordine 1, che è doppio, ok? Ripeto, ci sono solo 3 puntini, perché qui questa sinusoide è piazzata per così, oscilla per così, ma se io avessi un'onda bidimensionale, qui non avrei più 3 puntini, ma avrei un puntino con attorno un cerchietto, ok? Che è quello che poi vedrete con OpenCV, trattando le immagini via software, perché altrimenti diventa un po' difficile da fare. Quindi, allora, come vi dicevo, abbiamo visto il concetto di teoria di ABBE, quindi come si genera l'immagine, a causa del fatto che un'immagine è considerata come una sommatoria di tantissime sinusoidi, ok? Abbiamo visto come si tracciano i raggi e poi abbiamo visto il concetto di ingrandimento e come andare a calcolare, questo l'avevamo visto ampiamente, come andare a calcolare le distanze corrispondenti. Questo serve appunto anche volendo progettare dei sistemi. Benissimo. Ora, io ho pensato che, volendo far vedere, far capire meglio questo oggetto, la cosa migliore era fare un esperimento. Per questo che tutto è disegnato in scala, mi ha portato via parecchio tempo, perché qui sotto c'è l'equivalente vero, ok? Quindi, allora, noi abbiamo bisogno di una sorgente di luce monocromatica coerente, con raggi paralleli, e ci vorrà un laser. Poi abbiamo bisogno di un reticolo sinusoidale. Ebbene, il reticolo sinusoidale, se vi ricordate, io ve l'avevo già mostrato, è questo qua, ok? Ve l'avevo già mostrato, costava, se vi ricordate, molti soldi, e va da 0,375 fino a 80 cicli al millimetro, ok? Bene. Dopodiché, qui mi serve una lente, vi ho detto da 50 mm, perfetto, io ho preso un obiettivo fotografico e lo mettiamo qua. Dopodiché, essendo 50 mm, qua bisogna anche andare a vedere dov'è il piano, vedete, perché qui l'ho disegnato facilmente, qui è più difficile da disegnare, devo andare a capire dov'è il piano, allora io sono andato a calcolarmelo, ed è qui, questo è un pezzo che avanza, e poi però, qui sono 50 mm esatti, quindi questo è il piano dove si forma l'immagine del fuoco, cioè, qui c'è il fuoco della lente, quindi qui si formeranno questi puntini. Poi, però, ancora più avanti, a una distanza V, pari a 75 mm, quella che ho calcolato, si riformerà il reticolo. Ora, se si riforma il reticolo, significa che, siccome qui siamo partiti da un punto, qui avremo un punto, quindi, qui avremo tre punti, e qui ne avremo uno solo. Notate che qui sono disegnati tre, perché è come se io avessi tre laser assieme, di colore diverso, però naturalmente io ne avremo uno solo, e quindi qui avremo tre puntini, e qui ne avremo uno solo. Ok? Benissimo, allora, cominciamo quindi a costruire l'oggetto. Allora, la prima cosa che ci serve è il laser, vedete? Questo è un laser che in realtà serve per fare altre cose, in realtà serve per allineare i telescopi, essere precisi, ma comunque non importa. Quindi, lo mettiamo qua. Ok? Poi lo accenderemo, naturalmente, vedete che, vedete? Comunque per adesso lo spegniamo. Dopodiché, ho bisogno del mio target sinusoidale. Eccolo qua. Vedete? Se vi ricordate, questo è il mio target sinusoidale, l'abbiamo visto la volta scorsa, se ci fate caso, questa è la zona in cui, vedete che qui, vedete che la frequenza sale andando per così, e poi tornando indietro continua a salire. Questa zona è quella con la frequenza massima, da 80 cicli al millimetro. Per cui noi piazzeremo la nostra struttura esattamente così, in modo tale da allinearci correttamente. Lo portiamo un po' più in là. Ok? Poi adesso ve lo mostrerò meglio in funzione. Benissimo. Andiamo ancora un po' più in là. Ok. Dopodiché, vedete, cominciamo ad accendere il laser. Eccolo qua. Ecco, vedete il puntino del laser lì? Allora, io però lo devo allineare bene, perché altrimenti non rispettiamo, se non rispettiamo le distanze, non otteniamo l'effetto che volevamo noi. Adesso se vi faccio vedere, vedete? Questo è, vedete? Andate, metto fuoco meglio, ecco, così. E vedete che questo è il laser in questione. Adesso qui, ad essere sinceri, è un po' storto, ma adesso lo raddrizziamo. Bene, rimettiamo la telecamera al suo posto. Ok. Perfetto. L'obiettivo. Ok, questo è l'obiettivo. È un caro buon vecchio obiettivo Yashica, di tantissimi anni fa, un obiettivo tra l'altro di qualità piuttosto bassa, essere sinceri. Comunque non importa. Vedete che ha la sua ghiera di messa a fuoco, che in questo caso non ci servirà assolutamente niente. E poi qui al nostro diaframma, vedete, questo parte da F1,9. E in questo momento, vedete, è su F1,9. Vi ricordo che se io lo giro per così, per esempio, vedete, adesso è F11, e vedete che è parzialmente chiuso. Tra l'altro qui vedete che c'è un anellino che vi permette di aprirlo. Vedete? Questo serve quando scattate la fotografia. Comunque, io adesso lo riporto su F1,9. Ok? Questo lo metto a fuoco su infinito, tanto non ci serve a nulla. e lo appoggio qua. Devo metterlo in modo tale che non si muova. Ecco, fatto. Perfetto. Ok, ci siamo. Allora, andiamo soltanto a linearlo bene. Ok, perfetto. Adesso, a questo punto, io vado a prendere, costruisco, mi costruisco uno schermo. Ok? Che ne è un altro pezzo di cartoncino, uno scatoletta. Ora, andiamo a vedere cosa vediamo. Ecco qui. Allora, vedete che qui noi abbiamo il nostro obiettivo, qui noi abbiamo la nostra mira, notate che il laser sta colpendo esattamente la zona da 80 cicli al millimetro, quindi 160 linee al millimetro, va a finire dentro l'obiettivo, qui non si vede perché è rosso, e dopo, ad una distanza che pare alla lunghezza focale, quindi 50 mm, vedete che parte da circa metà dell'obiettivo per motivi meccanici, vedete che lì si forma la tripletta di puntini, quindi l'ordine 0 e sopra e sotto l'ordine 1. Ora, io adesso muoverò lo schermo, vedete, prendo semplicemente lo schermo, vi ricordo cosa è successo, cosa succedeva qua, ok, quindi qui c'erano i tre puntini, quando io mi muovo sul nuovo fuoco, che ho calcolato 75 mm con le mie formule, il punto diventerà uno solo, eccolo lì, vedete? Ha funzionato come previsto, man mano che io invece mi riavvicino, questo si sdoppia e si forma la tripletta. Ora, per farvi vedere come effettivamente questo sia dovuto sostanzialmente all'inclinazione della mira, cioè il fatto che i tre puntini siano in verticale, adesso noi proviamo a fare un piccolo esperimento e sostanzialmente proviamo a inclinare leggermente la mira, ok? La incliniamo, poi però la dobbiamo far scorrere, andate, l'inclino ancora un pochettino, ecco, più o meno ci siamo, andate, perché non è bene, tant'è che non è ancora a posto, ok, sì, dovrebbe essere a posto, eccolo lì, vedete? Si è inclinato anche la tripletta di punti, quindi questo significa che se io avessi, vedete, io qui ho le sinusoidie che sono messe esattamente come queste, no? Quindi sono messe per così, muovendosi per così, ok? Perché queste sono anche sinusoidie, solo che sono meno frequenti, queste invece sono molto più frequenti, dove colpisce il laser vanno 80 cicli al millimetro, quindi assolutamente invisibile occhio nudo. Ora, questo significa che se voi avete un dettaglio reale, quindi una parte dell'universo per così dire, questo non avrà necessariamente l'inclinazione in quel verso e potrebbe averci un'inclinazione in tutti i versi. Quindi questo significa che io quando vado qua dovrei riuscire a vedere non un puntino al centro, due puntini non sopra e uno sotto, vedete qua si è spostato perché ho dato un colpetto, ma vedrei un punto al centro e attorno a un cerchietto. Poi io sposto, vedete, mi porto sulla posizione corretta e vedete che lui mi è diventato un punto unico. Notate che se io adesso spostassi ulteriormente in là lo schermo mi si riaprirebbe di nuovo, vedete, sfocandosi esattamente come capiterebbe qua perché se io continuassi quello sopra e quello sotto rosso si riaprirebbero. Ok? E quindi si avrebbe una sfocatura. Ok? Ora, per completare questa piccola prova che secondo me è molto interessante giungiamo dunque alle conclusioni. Le conclusioni sono che le immagini si formano in questo modo a causa della natura ondulatoria della luce. Ok? Quindi adesso scusate lo rimetto a suo posto. ok? Quindi le immagini si formano in questo modo a causa della natura ondulatoria della luce per cui tutti i dettagli che ci sono in una scena visibile sono delle sommatorie di seni e coseni con opportune ampiezze e frequenze e fasi. vengono diffratte opportunamente appunto dalla realtà quindi il fascio si apre dopodiché viene focalizzato dalla lente che è la lente per esempio della vostra macchina fotografica nel suo piano nel suo piano di Fourier si forma la trasformata di Fourier e poi dopo l'immagine torna a fuoco che è quella che noi vediamo in una qualsiasi fotografia. se però noi andiamo nel piano di Fourier e mettiamo per esempio un dischetto questo dischetto andrà per esempio a formare un filtro passa basso perché vi ricordo che il centro c'è il puntino centrale e la frequenza continua le frequenze laterali sono più ampie ora vediamo allora cosa sono bene queste frequenze laterali allora vedete che noi qui siamo qua vedete che noi siamo su 80 cicli al millimetro e se ci fate caso vedete che adesso qui lo vediamo di nuovo meglio scusate allora vedete che quella è la dimensione adesso io proverò a cambiare la fare shiftare la mira devo solo fare un po' d'attenzione quindi io passerò da quella 80 a quella successiva ecco vedete aspettate un attimo perché devo raddrizzarla ecco qua ok ci siamo allora vedete adesso siamo nella terza nella terza dal basso vedete io adesso farò semplicemente così solleverò questo quindi passerò dalla da quella meno frequente a quella un po' più frequente e per finire arriverò a quella da 80 quindi riportiamolo su questa ecco qua adesso io alzerò ecco e adesso passiamo quella ad 80 vedete vedete che i due puntini si vedete più in giù non posso andare per motivi meccanici però vedete che qui sono molto vicini io adesso allargo e poi allargo ancora se avessi una la possibilità di andare con frequenze spaziali maggiori potrei permettermi ancora di più ora quello che volevo dirvi ancora per concludere questo discorso di ripasso adesso qui lo mettiamo di nuovo sull'80 blocco leggermente questa vite ecco ecco ora vi avevo detto sostanzialmente che questi punti vedete questi punti qua formano questo è l'ordine 0 e questo è l'ordine 1 però voi immaginate qui di essere in questa condizione e immaginate di avere un reticolo di diffrazione molto più denso quindi anziché 160 che so 1600 adesso qui non abbiamo le formule corrispondenti però l'angolo di deviazione aumenta quindi se io avessi 10 volte queste linee questo esploderebbe diventerebbe molto più grande allora che cosa succederebbe se io avessi questo angolo più grande succederebbe che questo raggio semplicemente esce fuori dalla lente e naturalmente se esce fuori dalla lente non può venire raccolto e se non può venire raccolto non viene visualizzato qua per cui si ha solo il punto centrale ok quindi questo significa che questa è la vera limitazione per cui la dimensione della lente è fondamentale perché se la lente non è abbastanza grande non riesce a raccogliere le frequenze spaziali maggiori ok però voi direte ok ma se io qua mi metto molto molto vicino funziona ok sì è vero perché in effetti i fattori sono due uno è la lunghezza focale della lente cioè questa che quindi automaticamente si riflette su questa perché sa parità di ingrandimento se la focale è minore io sto più vicino ok e poi l'altro la dimensione quindi effettivamente il parametro importante è f su d cioè il diaframma perché il diaframma essendo la focale diviso il diametro comprende in lo stesso momento la focale e il diametro ok bene quindi allora io adesso vorrei ancora fare un ultimo esperimento per cui adesso andiamo a cambiare vedete che qui noi abbiamo il vedete questo è un f1,9 ed è completamente aperto adesso noi lo chiudiamo un po' lo mettiamo per esempio a vediamo un po' lo mettiamo a f16 dai esageriamo ok ora messo f16 vedete che c'è un buchino piccolissimo allora voi capite subito che vedete vedete cosa succede se io vado a mettere vedete io l'obiettivo lo metto qua no quindi il diaframma è messo più o meno nel centro dell'obiettivo quindi dovrebbe essere messo qua qui dove c'è questa linea tratto punto quindi questo significa che se noi mettiamo qui il la nostra scherma poi andiamo a guardare vedete che il nostro obiettivo riuscirà a formare un'immagine con quella frequenza spaziale soltanto se quei tre puntini riusciranno a entrare dalla lente allora voi capite subito che messo in questa condizione passerà il puntino centrale ma gli altri due non se ne parla proprio mentre invece quando io ero a f1,9 siccome era tutta la lente ci passavano tutti e tre questo è il motivo per cui a f1 e 9 io sono in grado in teoria perché poi dipende anche dalla qualità notate che è qui il punto preciso ok perché è su questo piano qua dove c'è il diaframma quindi avrei bisogno di quello ora se noi adesso andiamo a vedere qui con un righello e andiamo a vedere quanto sono larghi vedete che sono 15 mm ok quindi noi dobbiamo avere qui un diaframma che copra almeno 15 mm quindi per esempio f2 fa 50 diviso 2 fa 25 non c'è nessun problema f4 fa 12,5 e in teoria già non ci siamo più ok perché non semplicemente non passa anche se in realtà è un pochino diversa la faccenda comunque è così quindi questo significa che se io adesso metto l'f16 qua vedete che adesso è f16 io metto il mio f16 qua poi lo centro bene perché mi sa che non è ben centrato perché non passa nulla perché deve passare almeno quello centrale naturalmente aspettate lo devo lineare perfettamente allora ecco qua ecco qua ok perfetto ecco ecco qua vedete il puntino il puntino c'è però lo mettiamo qua però non è più sdoppiato adesso ve lo faccio rivedere vedete il puntino c'è dopodiché se io mi porto nel fuoco c'è sempre il puntino ma questo punto è completamente a fuoco ma quella a frequenza spaziale non c'è più ok proviamo a fare f2.8 f2.8 dovrebbe bastare sicuramente ecco qua eccolo qua sì basta tranquillamente vedete si vede la distanza è sempre la stessa di prima naturalmente proviamo f4 allora questo f4 vedete che passa al centro e poi ne passa uno sopra quello sotto non ci passa più poi probabilmente non è ben allineato però vedete che se io vado più giù dovrebbe prima o poi comparirmi quello sotto adesso qui è anche questione naturalmente di allineamento però tutti e due non ci passano per motivi proprio di di spazio perché naturalmente se voi guardate a f4 è ovviamente più piccolo di prima ok ora per concludere quindi io qui ho riportato questo disegno spengo il laser che tanto non ci serve più questo disegno qua se ci fate caso è l'MTF che dunque permette di effettuare la risolvenza di linee per millimetro sul piano sul piano focale naturalmente ok ora cosa significa significa che a f1 e 9 nel verde notare che qui siamo nel rosso il rosso è perché quel laser lì è rosso quindi diciamo 600 qualcosa quindi se ne risolvono un po' meno comunque non importa diciamo che a f1 e 9 siamo circa 2000 linee al millimetro ce ne siamo d'avanzo perché noi qui ne stiamo usando 320 perché sono 160 linee al millimetro moltiplicate per 2 perché è l'ingrandimento a f8 sono 454 ci dovrebbe già stare ok ci dovrebbe già stare però alla fine non ci sta ok mentre invece a f16 vedete che noi ne possiamo fare 228 e non se ne parla proprio non passa assolutamente niente ok bene quindi in sostanza per ricapitolare l'idea è che adesso scusate tolgo questi oggetti quindi l'idea per ricapitolare la realtà è che il il mondo cioè tutto quello che noi vogliamo rappresentare è una sommatoria di seni ok che se noi andiamo a prendere con delle opportune con opportuna luce monocromatica e coerente riusciamo a separarli e quindi quando questa luce incide su questo reticolo sinusoidale produce l'ordine 0 e l'ordine 1 gli ordini 0 e 1 quando arrivanno a fuoco qui ho fatto tutti i conti quando vanno a fuoco nel punto giusto diventano di nuovo un punto come deve essere perché qui era un punto e il rosso qui ridiventa un altro punto però sul piano di Fourier non è più un punto ma sono tre punti ok quindi adesso vedremo le slide relative all'utilizzo di Fourier con OpenCV sostanzialmente però voi con OpenCV andrete ad effettuare la trasformata dell'immagine che avete già acquisito quindi l'avete acquisita qui naturalmente e farete la trasformata in modo tale da ottenere questa visualizzazione per cui al centro dell'immagine avrete un punto che la costante quindi la frequenza zero e tutto attorno avrete una nuvola di punti che sono le varie frequenze che saranno tipicamente di solito orientate in orizzontale in verticale perché le frequenze della realtà cioè del mondo reale sono tipicamente più sulla verticale e sull'orizzontale naturalmente per esempio pensate agli alberi le persone le case ok però in generale voi potreste avere qualsiasi tipo di frequenza e questo sarà esattamente quello che vedrete utilizzando il software di trasformazione dopodiché vedrete anche come fare a fare quello che qui ovviamente non è stato possibile fare e cioè andare a mettere in modo diretto e cioè andare a mettere su questo piano di Fourier un per esempio un dischetto un piccolo dischetto voi capite che se qui passa la continua e questo viene bloccato quindi significa che questo è un filtro passa basso perché la continua passa le frequenze più basse passano questa non passa tutte le frequenze più alte non passano se voi costruiste una piccola corona circolare cosa fareste passare le frequenze più basse e le frequenze più alte attenereste le frequenze intermedie quindi sarebbe un diciamo un blocca banda ok filtro blocca banda quindi vedrete appunto come fare a generare questi filtri e soprattutto a calcolare questa cosa naturalmente utilizzerete le librerie di Opprensiv perché altrimenti sarebbe decisamente troppo complicato ok vi ricordo ancora sempre per ribadire qui rispetto a quello che abbiamo visto la volta scorsa non c'è la seconda lente uno volendo qui ci potrebbe mettere una seconda lente e qui riavere di nuovo dei raggi paralleli ma servirebbe solo se uno volesse guardare ad occhio perché l'occhio c'è il sensore c'è la retina ma c'è anche la lente davanti mentre qui se noi vogliamo possiamo metterci una macchina fotografica esattamente qua perché in effetti se quell'obiettivo lì io lo montassi su una macchina fotografica qui andrei a scattare una foto qui e non mi vedrebbe questi punti qua ok va bene direi che con questo abbiamo terminato questa prima parte grazie a tutti